Direzione Nord, e vedete, direzione Nord può esserci Lampedusa o Malta, e quindi questo è chiaramente un atto di delinquenza, di criminalità organizzata, non c'è nessun soccorso, nessun naufragio. Chiaro che per quello che mi riguarda, di mia competenza, le acque italiane ai pirati, ai criminali sono precluse. Vedremo dove vanno e vi aggiorneremo, spero, nei prossimi minuti sulla posizione attuale di questa nave pirata, perché così è. A proposito di immigrazione, leggevo che da Roma è stata mandata alla Procura siciliana un atto sul fermo di un'altra nave dell'ONG nello scorso gennaio, la Sea-Watch. È in arrivo un altro processo nei confronti del cattivone ministro Salvini? Non lo so, lo scopriremo insieme, solo vivendo, come diceva Lucio Battisti.